Eccoci, siamo in un nuovo podcast con Brigante. Oggi vogliamo parlare un po' di come sei diventato Brigante. Da dove sei partito? Questa è una bella domanda. Guarda, ti dirò la verità. In realtà ho sempre avuto la passione del mondo dei tatuaggi, fin da quando ero bambino. Vedevo sempre tatuaggi di gente... Ahimè, sei tipo ex Galeotti, così che avevano tatuaggi, e mi affascinava di brutto, mi piacevano. Non li vedevo, dicevo, vorrei anch'io avere questo tatuaggio, questa roba qua. Se questa è comunque la periferia di Milano, quindi siamo cresciuti tutti nella periferia di Milano, dove negli anni 80, quando io ero piccolo, primi 90, i tatuaggi li vedevi solo nei bar, ed era tutta gente così, no? Era affascinante, un po' una cosa da pirata, no? Quindi il tatuaggio mi ha sempre affascinato, fin da quando ero piccolo. Penso che il primo tatuaggio che ho fatto, e mi sono fatto, forse ero a scuola con tre aghi legati con un filo bianco, e avevo anche scaldato con l'accendino per sterilizzarlo, no? Sai, una volta era... Avevo fatto, forse guarda questo. Guarda, questo qua. È rimasto bene, no? Sì, sì, ce n'è anche uno in giro qua che ce l'ha uguale, perché sempre con lo stesso ago, ovviamente, adesso non si fa. Stesso tappino. Sì, sì, ma ovviamente ti parlo di inizi anni 80, no? Quindi, invece la passione per la calligrafia me l'ha trasmessa mia mamma, che era una partita di calligrafia, aveva pennini, cose, aveva una firma molto calligrafica. Poi io fortunatamente arrivo da una famiglia di artisti. Mio padre ha fatto l'accademia di pittura, mia mamma dipingeva ceramica, mio nonno era un pittore, quindi io fortunatamente ho avuto, ho respirato in famiglia sempre questa roba qua dell'arte. Invece anni, anni, anni fa andavo sempre negli studi di tatuaggi, mi tatuavo e poi rimanevo lì tipo tutto il pomeriggio. Finché un giorno mi hanno regalato una macchinetta, un ago, un alimentatore e dovevo comprare solo un clip cord e un pedale. Io ho iniziato a tatuarmi, prima io, le gambe, insomma, e tutto il resto, poi tatuare tutte le persone che conoscevo, in zona, la mamma, il papà, la zia, la nonna, avevo la mia valigettina che andavo a casa, come si faceva una volta, facevo gli stencil ancora con il deodorante Neutro Roberts, quindi era bello, adesso è cambiato un po' tutto, adesso ci sono queste macchinette qua che non fanno rumore, che anch'io uso, perché comunque alla fine ti devi anche un po' adeguare. Ma ti dico la verità, lo sai perché le uso? Le uso perché quando vado negli studi che uso le bobine, la gente non sente più la musica, cioè mi sento quasi, capito, mi giro, di cazzo sono io che sto facendo rumore, no? Scusate. Poi da lì ho iniziato in uno studio, via Pellegrino Rossi a Milano, all'Indian Tattoo da Andrea Carbone, che è stato il mio insegnante, quello che mi ha segnato praticamente tutto quello che so. però anche lì erano veramente mille secoli fa, arrivavi, c'era proprio la cultura, cioè l'unica cultura che c'era era, entrava la gente e mi diceva mi fai una scritta, ed erano le scritte di Word, capito, un font di Word già fatto. Quindi non è stato facile portare la gente a fare scritte che non fossero quelle del computer, capito, star lì a spiegargli, io dicevo te la faccio e se non ti piace non me la paghi, cioè capito? Però devi essere onesto, cioè se non ti piace non me la paghi. E stavo lì, lavoravo fino a luna, una e mezza di notte, non mi interessava, cioè mi mangiavo una pizza in studio pur di tatuare una scritta free hand. Quindi il percorso non è stato facile, perché la gente allora non capiva, anche perché subito non ci arrivavano al fatto della scritta free hand, della scritta nuova, oltretutto volevano tutti la bozza prima, mi fai una bozza, a me questa roba qua mi uccideva, e quindi ho deciso di fare solo free hand. Da lì ho deciso che avrei fatto solo free hand. Quindi è nata così, è nata, allora ti dico la verità, io prima facevo, vabbè ho iniziato facendo di tutto, dalle fatine, agli ignomi, ai folletti, ai tribali, insomma tutto quello che si faceva in uno studio di tatuaggi allora. Dopo mi piaceva tantissimo il tradizionale, e l'ho fatto per un sacco di anni, non mi cagava nessuno, ma l'ho fatto per un sacco di anni. Però c'erano i mostri sacri, sai Stizzo, che per me erano il top, sono tuttora il top. Poi a un certo punto mi sono accorto che questa roba qua la soffrivo, cioè facevo il tradizionale e lo soffrivo, cioè non mi veniva più. Avrei potuto continuare a fare tradizionale e scritta, invece ho fatto una scelta radicale, cioè ho deciso di fare bene una cosa sola, quindi mi sono dedicato solo al lettering. E inconsapevolmente, forse l'ho fatto in un periodo dove ancora non era arrivato, insomma, ti ripeto, tutti facevano, si facevano font di Word. Sì, sì, sì. Inconsapevolmente, o non lo so, inconsapevolmente, devo aver fatto qualche cosa che mi ha dato questa, che sono stato apprezzato. La cosa che mi ha fatto capire più di tutte quanto fosse apprezzato è il fatto che venisse apprezzato dagli stessi artisti americani, quindi come Boog, Boogstar, o Norma, Big Slips, ho lavorato con tutti loro, ho lavorato con Mies, ho lavorato con BJ Betts, che sono dei pilastri, anche loro del lettering mondiale. Il fatto che loro mi abbiano dopo messo, diciamo, al loro livello, mi ha veramente dato la spinta per continuare questa cosa qua. Quindi, lavorare con Boogstar per me è stato un onore. È venuto qua in Italia, abbiamo girato per due settimane, siamo diventati molto amici. Cioè, il suo libro, From the Street with Love, è la referenza mondiale per il cicano style, per il lettering, per tutto. Quindi, è stato veramente un onore. Cioè, io, i primi tatuaggi che volevo erano proprio quelli del suo libro, che andavo dai tatuatori, gli dicevo, no, questo qua lo voglio io. E poi avevo ancora la mentalità, sai, oh, non farlo a nessuno, perché questo qua lo voglio io. Capito? Quindi, è andata così, non l'ho fatta apposta. Cioè, è diventato tutto così da solo. Non è stata una cosa volontaria. Probabilmente se l'avessi voluto, non sarei qua. Non sarebbe successo. Oggigiorno, mi rendo conto che nessuno fa più l'apprendistato negli studi di tatuaggi. Temo a dire la verità, io sono stato fortunato, non l'ho fatto nemmeno io. Nel senso che, sono arrivato, erano altri tempi, mi ha dato la possibilità di entrare in questo studio, perché diceva, vabbè, tu vuoi farti le scritte, quello che vuoi tu, va bene, vai. Mi ha dato proprio piena libertà. Non era facile allora. Adesso invece, sai, adesso i tatuatori di oggi, dopo un anno che tatuano, no, io, sai, io queste cose non le faccio. E come non le fai? Cioè, la, il tatuatore intanto sa fare tutto. Non sa, non è che parte, e tu dopo quattro mesi fai solo lettering o fai solo, non lo so, black work o fai solo tradizionale. Non funziona così. Cioè, io quando lavoravo facevo sette, otto lavori ogni giorno. Capito? Sì, sì, sì. Robine piccole, infiniti, cose, cioè, che mi hanno comunque aiutato a perfezionare la linea, perché comunque su quello perfezioni la linea. Facevo braccia nere, quindi mi hanno aiutato a imparare a fare il nero. Il tradizionale mi ha aiutato col colore. Ok, dopo da lì ho affinato la mia, la mia tecnica per la linea sul lettering, perché volevo si distinguesse da, eh, dalle solite scritte. Cioè, volevo che, quando io dicevo alla gente, se non ti piace, non me lo paghi. Io dovevo essere sicuro che la gente usciva con un tatuaggio che quantomeno era perfetto. Cioè, doveva essere come, come dicevo io, che lo guardi e dici, bello, che cazzo te l'ha fatto questo qua? Una bomba. Quindi, sì, comunque è un lavoro di sacrifici. Mi rendo conto che oggigiorno magari se ne fanno un po' meno, però, insomma, è un sacrificio. non puoi fare, sento tanti che dicono, eh sì, no, faccio il tatuatore di secondo lavoro. No, non puoi fare il tatuatore di secondo lavoro. Cioè, o fai il tatuatore o se no fai un'altra cosa, perché questo è un lavoro che ti impegna H24, capito? Sei il tatuatore anche quando vai a dormire. Che io vado a dormire e quando vado a dormire sto già pensando a progetti che dovrò fare. Sto già pensando alla prossima cosa che dovrò fare, perché questo alla fine è il segreto, no? Fondamentalmente. non fermarsi mai. No, no, mai, se no qua, in questo mondo qua ci sono troppi squali. O diventi lo squalo più grande o ti mangiano. È fine della storia, non c'è altro, un altro modo. Io non avrei mai accettato di farmi mangiare da qualcuno, quindi ho voluto diventare, ho voluto dare il massimo che potevo. Fortunatamente è andata bene. Quello sì. Nel lettering italiano penso che ci siano pochi gli artisti che hanno la tua credibilità a livello mondiale intendo non... L'ettering è diventato uno stile vero e proprio. Sono contento di avere fatto molto per questo, per arrivare a portarlo qua, perché mi rendo conto che tanti mi dicono grazie per motivarmi sempre ogni giorno, grazie perché se no non sarei arrivato qua. Ed è la stessa cosa che io pensavo quando ho incontrato e ho lavorato con Bog, cioè, capito, grazie per avermi fatto appassionare a questa cosa qua, capito, perché vedevo le sue scritte impazzivo, le volevo fare anch'io così, come... volevo essere anch'io riconosciuto così, quindi sono contento di... che molti ragazzi vogliano fare questo. Non è... cioè, non è un lavoro così semplice, nel senso come... allora, non è un lavoro semplice fare il tatuatore. Il lettering, dove è una delle cose dove serve più tecnica, oltre che lo stile, cioè, diciamo una cosa, o hai uno stile tuo, inconfondibile, e allora puoi permetterti di avere una tecnica leggermente più... Grezza. Più grezza, ma tu hai uno stile talmente tuo, talmente riconoscibile, che sei tu. O hai una tecnica dalla Madonna, o ce le hai tutte e due, e allora non piccolo a tutti, se ce le hai tutte e due. Cioè, se ce le hai tutte e due le cose, non piccolo a tutti. Questo è... Quello che sta succedendo anche adesso. Questo è quanto. Cioè, se tu, io dico, io ho... in molti seminari che ho fatto, dicevo, ragazzi, se voi lavorate con questa tecnica e fate un pezzo così preciso, nessuno vi deve rompere i coglioni. Nessuno vi può rompere i coglioni perché non c'è niente da dire. Il pezzo è fatto da Dio. Fine dalla storia, non c'è altro da dire. Ve lo succano tutti. Fine dalla storia. E questo è quanto. Che è la verità. Sì, certo che è la verità. O hai uno stile inconfondibile, o una tecnica della Madonna, o tutte e due. Comunque una di queste tre cose qua ce la devi avere. Una di queste due cose qua la devi avere. Per distinguerti dagli altri. Ok? Ti ripeto, se tu hai una tecnica devastante che comunque il pezzo è così, fissato, nero, perfetto, preciso, te lo succano tutti fino alla storia. cosa ne pensi della nuova generazione? Perché secondo me è quello che dicevi prima che non hanno la voglia che si avviva. Ma ti dirò, la nuova generazione in realtà, adesso ti parlo, cioè, la nuova generazione per quanto riguarda quelli che fanno lettering o la nuova generazione in generale? Perché in generale, non lo so, ci sono diversi stili, poi i maestri degli altri stili sapranno dare la loro versione, insomma, di come approcciano. Ti devo dire che nel lettering ci sono molti ragazzi bravi, spaccano, le tecniche sono cambiate, le macchinette sono cambiate, la resa è cambiata, gli aghi sono cambiati, è cambiato tutto. Quindi, adesso tecnicamente è molto più, è molto più facile tecnicamente arrivare a quello che si faceva una volta con la bobina, cioè, adesso probabilmente se uno usa una bobina, ma posso anche capirlo, cioè, nel senso che usi la bobina e non ti trovi, perché d'altronde sono queste macchiette qua, non vibra, non... Non fa rumore, non pesa nemmeno. Esatto, posso capirlo che si adeguano subito e poi non riescono poi a passare dalla bobina, lo capisco. Però dico, i ragazzi di adesso ci sono tanti che spaccano, c'è poco da dire, ma spaccano in tutti i campi, io ti parlo del lettering, ce ne sono tanti validi, spaccano, si applicano, fanno il giusto, hanno i giusti flow, hanno ognuno, qualcuno ha il suo stile particolare, è riuscito a crearsi uno stile particolare, qualcun altro prende sempre troppo delle reference, ma, vabbè, insomma, ci sta, l'importante è non copiare, cioè, l'importante è non fare un copy e incolla, che poi le lettere sono quelle, non è che poi, l'alfabeto non è che l'abbiamo inventato noi, non l'ho inventato io, non l'ho inventato nessuno, esiste da sempre, quindi, il corsivo è quello, il gotico è quello, poi tu lo puoi modificare a tuo gusto e piacimento, quanto vuoi, cercando di non essere il clone di qualcun altro e farti un'identità tua, questa è la cosa più importante, ma penso sia così un po' per anche gli altri stili, però devo dire, anche negli altri stili, ci sono ragazzi, la nuova generazione li spaccano, ci poco da dire. Cioè, hanno magari strumenti diversi che quelli che avevate voi. Però l'importante è il risultato finale, cioè, se io ti do una penna e tu con la penna fai un lavoro, che fai una figata pazzesca e quando è guarito è anche una figata pazzesca anche quando è guarito, perché no? Cioè, io, voglio dire, sono il primo che se mi si smonta una macchinetta, una bobina, mi si allenta una vite, cioè, io la vendo, ne compro una nuova, non ho così tanto da star lì a mettermi, farla, non sono particolarmente legato allo strumento vero e proprio, cioè, mi interessa la mia mano, come lavoro io. Questo è anche perché io sono cresciuto in uno studio dove c'era quello che c'era, cioè, c'è questa macchinetta qua, il mio capo dei tempi, che ripeto, è stato un faro per me, cioè, magari non ci aveva tutto il giorno per spiegarmi come si modificava la molla, la cosa, cioè, bisognava lavorare, capito? Cioè, quindi io, non è che potevo fare altro, cioè, o facevo il lavoro, lo facevo bene, o al terzo lavoro che facevo male me lo andavo a casa e io non potevo permettermelo perché, non è che arrivo da, cioè, non è che sono, sono cresciuto coi soldi, sono cresciuto senza, senza soldi, quindi, non è che mi potevo permettere di, di cazzeggiare, dire, ah sì, al terzo che sbaglio vado a casa, no, minchia, io devo farlo bene, cioè, il pezzo da lì dove uscire, bene, poi, qualche pezzo che, come tutti quelli che iniziano, guarisce male, è normale, quello è normale, cioè, questo, il lavoro è questo, non è che si, si scappa, no? C'è la pelle, cioè, la pelle è la pelle, poi, sai, inizi, non conosci la pelle della gente, insomma, dopo con anni di esperienza capisci tante cose, il punto dove è più delicato, però, sì, insomma. Col tempo si imparano tutte queste cose? Certo, col tempo si impara, si impara tutto col tempo, basta avere voglia e dedizione, cioè, tu, se alla terza volta, che magari sbagli qualcosa, o che non ti viene, e tu lasci perdere, cioè, è già perso, è già perso in partenza, capito? Sì, infatti, è chiaro il fatto di dover impegnarsi, ma certo, ma poi, ma la cosa importante è, carta, penna, allora, facciamo così, facciamo così, prendete l'iPad, e buttatelo, nel cesso, subito, ma perché? Perché, può anche venirti un risultato, fantastico, bellissimo, poi io dico questo, se domani l'iPad mi paga, per fare una roba per l'iPad, vi dico che è bellissimo, cioè, capito cosa voglio dire? Però poi, una persona mi deve conoscere, davvero, per sapere, cioè, che cosa usi? No, nel senso, l'iPad, buttatelo, perché? Perché non c'è più la carta, la matita, cioè, io ho provato a usarlo, per curiosità, no? Quindi tu fai la linea, del tuo flow, della lettera, e questo c'è il correttore automatico, cioè, tu fai così, e questo magicamente, ti fa le curve come vuoi tu, sì, forse io sarò, di una generazione vecchia, no? Però, per me è impensabile, questa roba qua, quindi, ti, capito, ti toglie proprio, quel gusto del disegno, che invece io, voglio, voglio, mantenere, cioè, anche perché ti dico, io ho provato queste penne qua, io ne ho fatta una, mi trovo benissimo, ovviamente, all'inizio ho fatto proprio fatica, ad accettare di, di, di usarla, adesso, mi rendo conto, che vado negli studi, veramente, mi sento, cioè, mi sento l'unico che fa rumore, capito, la gente non ascolta più la musica, se io uso la bobina, qui dico, no, vabbè, dai, perché ti guardi, si girano, come dire, chi è questo, questo qua con la bobina, ancora, capito, cioè, per me, una volta entrare nello studio di tatuaggi, era il rumore della macchinetta, l'odore del detto, cioè, era quello, capito, adesso, però, ti devi anche arrendere alla fine, dopo un po', cambiano i tempi, cioè, o rimani indietro, o vai avanti, però l'iPad, non ce la faccio proprio, ma pensi che cambia, cambia tanto anche quando tatui, cioè, nel senso, la manualità che riesci a avere su carta, se la perdi, poi dopo fai fatica anche nel tatuaggio, assolutamente sì, ti ripeto, ci sono questi correttori qua, di iPad, per le scritte, che per me sono, devastanti, devastanti, proprio a livello di manualità tua, cioè, non la, non la concepisco, mi spiace, ma non mi entra proprio in testa, ti dirò, è così difficile adesso, tatuare, ad esempio, con la bobina, che entro in uno studio, e se mi sono dimenticato un elastico, nessuno c'ha più un elastico, non trovi più un elastico per la bobina, non lo trovi più, più di una volta mi è capitato arrivare, e monto la mia bobina, qualcuno ha un elastico, no, elastici, per cosa? Non so, ho cambiato tutto, però va bene così, insomma, il mondo va avanti, e sicuramente le penne, sono state un'innovazione, difficile da accettare, per chi come me, ha usato la bobina, tutta la vita, ma, questa è la realtà. Cosa pensi, della generazione, che è nata, con l'iPad, e che quindi, non ha questa manualità, che ti sei fatto tu, con la carta, perché magari, nascendo con l'iPad in mano, non ti viene neanche voglia, di usare così tanto la carta, guarda, dice che avranno dei problemi in futuro, o comunque si sposteranno anche loro su carta, perché poi, il futuro, non lo so, perché, chi pensava, un giorno, di arrivare, a tutta questa, no, evoluzione, di, anche in un mondo, comunque così, tradizionale come il tatuaggio, che io mi avevo pensato, che un giorno tutti usavano, questo, piuttosto che l'iPad, non lo so, perché, spero sempre, che chi inizi, abbia comunque iniziato, ad amare il disegno, a matita, cioè, quindi, spero che chi inizi oggi, a 18, 19, 20 anni, a tatuare, quando ce ne aveva comunque 15, usava comunque la matita, cioè, quindi, mi auguro comunque che, tutti abbiano un, sicuramente un, un passato di, invece, di carta e matita, ti dico, io ho una figlia di 12 anni, e un bambino di 4, che tutti e due usano, l'iPad, come se fosse, per loro naturale, cioè, mio figlio a 4 anni, swipa le cose, sul telefono, ti dice, no, si fa così, è mia figlia, che invece lei, ha la passione del disegno, beh, essendo più grande, ha sempre avuto anche lei, la passione del disegno, ha sempre disegnato, a matita e carta, ovviamente, sai, queste app del telefonino, che tu puoi, modificare le immagini, modificare, intendo proprio disegnare, no, lei lo fa sul suo telefonino, però ti fa proprio i disegni, ma, guarda, ho fatto questa cosa qua, io mi incazzo come una bestia, gli dico, Franci, non si usa il telefono, fai su carta, capisco che sei lì sul divano, capito, ti metti lì, fai il disegno, anche che lo fai bello, come vuoi tu, però cerco sempre di portarla, a tornare indietro, capito, a tornare a, lavorare, a disegnare su carta, quello è quello che a me, mi ha salvato la vita, capito, io, quando avevo qualche problema da piccolo, quando, qualunque cosa, mi sgridavano i miei, avevo, non lo so, mille, mille cose in testa, io disegnavo, capito, perché era l'unica cosa, che mi faceva, staccare, ma disegnavo, mi piaceva proprio il foglio, mettermi lì, mia figlia, lo vedo che è così, però capisco che la generazione di 12 anni, capito, 13 anni, loro sono cresciuti più con la tecnologia, no? Però, cerco sempre di portarla, di farla tornare un po' indietro, diciamo, non lo so, probabilmente useranno sempre di più l'iPad, non lo so, sai cos'è? Una cosa che invece volevo dire, sia che riguarda il lettering, che riguarda tutti i generi, gli stili di tatuaggio, una delle cose che ho imparato, una delle prime cose che ho imparato, quando lavoravo all'Indian Tattoo, il mio capo mi diceva, se tu non fai un bel disegno, non farei mai un bel tatuaggio, cioè ovvero, se tu non fai un bel disegno, quando poi quel disegno tu andrai a tatuarlo, sarà più brutto del disegno che tu hai fatto, quindi la cosa fondamentale è rendersi conto, che tu stai facendo una cosa che poi, che sia già bella da vedere su carta, ok? Dopo quando la tatuerai va bene. L'iPad ha aiutato tantissime, aiuterà tantissime, ma quello che farà la prossima generazione, probabilmente non lo vedremo, o se lo vedremo ci sembrerà. Non lo so, però alla fine penso sempre che, se cambiano le cose, se cambia la generazione, se cambiano gli strumenti, per quanto a me non possano piacere, l'importante alla fine è il risultato finale. Cioè, vabbè, facciamo finta che tra cinque anni la realtà è che tutti faranno solo disegni con iPad, scritte con iPad, vabbè, a quel punto posso solo dirti l'importante è che quando poi la tatuia sia fatta bene. per essere l'unica cosa che posso dire. Che è l'unica cosa che conta. Eh, sì, alla fine sì. Fondamentalmente per il cliente, che comunque è quello che, diciamo, la parte più importante di questo lavoro, cioè il cliente deve essere contento, fondamentalmente sì. Vedi tanta differenza da quando lavori qui, a Milano, in periferia, piuttosto che a Londra o nei viaggi che hai fatto? Vabbè, la differenza di 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 lavorare, allora, fortunatamente al punto dove sono arrivato non ho più, cioè i clienti che ho arrivano tutti da fuori, da fuori Milano o comunque da Milano, da fuori Lombardia o da fuori Italia. Quindi la differenza non non la vedo perché non non lavoro più con il walk-in o con le persone del posto, ma più che altro perché ad oggi non capiscono magari l'evoluzione che che uno ha fatto, capito? Quindi fortunatamente ti dico la verità, il mio 85-90% di clientela sono tatuatori o collezionisti, per fortuna, ed era quello che io per il quale sono voluto arrivare diciamo a questo punto. Vabbè, Londra, Londra è sempre una città fiorente, cioè quando vai a Londra a lavorare hai comunque anche lì clientela, tatuatori, collezionisti, ma al 2.0, cioè nel senso sono disposti a fare sedute da tre giorni consecutive, vogliono una scritta sulla schiena, quanti giorni sono? Tre, tre giorni di fila, sì, Londra è bello. Ho lavorato 10-12 anni fa, forse di più, anche 15, 15 anni fa ho tatuato in Spagna per tre mesi, in un posto fighissimo, in Puerto Banus, in un studio in Quintatù di José González, che è un caro amico, e comunque spacca, fa realistico a colori, spacca. Sì, lo conosco ho lavorato da lui in questo studio che aveva aperto in Puerto Banus tre mesi, super divertente, super, insomma, al mare, quindi la situazione è fighissima, eccetera, eccetera. Ma a me piace lavorare, io lavoro solo come guest, non lavoro come resident da nessuna parte, ma sai perché? Non mi piace legarmi a uno studio in modo che poi quando me ne vado mi sento, capito, comunque in difetto, comunque è sempre difficile dire che te ne stai andando, quindi per principio ho gestito la mia vita lavorativa come guest, cioè lavoro solo come guest, finché ci sono, ci sono, poi un giorno non ci sono più, così, come la vita, capito, ci sei, poi non ci sei più, quindi questo è proprio il mio, è sempre stato il mio mood, il mio lifestyle, è proprio questo, anche il fatto che tanti mi vedono arrivare alle convention e non ho niente, non ho banner, non ho niente, questa roba qui non è voluta, cioè questa roba qua chi mi conosce sa che io sono così veramente, odio i bagagli, quindi se devo partire cerco di portare il minimo indispensabile, odio viaggiare con borse grosse, odio proprio, odio addirittura avere anche uno zaino, vorrei partire solo con niente, più volte l'ho fatto, sono arrivato in convention e ho comprato macchinette, alimentatori, comprato tutto lì al momento, sai all'inizio anche il fatto di fare il banner, per quanto io mi possa impegnare a dire no, farò un banner, non ce la faccio mai, è più forte di me, odio tutta questa cosa che è, io la verità è che odio tutto quello che è il contorno per fare la roba figa, capito, cioè sono un tatuatore, ho solo bisogno di tatuare, non mi interessa mettere sul mio tavolino della convention che ne so, 3000 gadget, accessori, far vedere che ci sono, cioè la trovo una cosa inutile, cioè, sì, se parla del tatuaggio non serve che parla altro, fine, cioè sono lì per tatuare, fine della storia, non c'è altro da dire, questo è quanto. Come sono stati i viaggi in America invece? Ti dirò, io in realtà in America sono stato solo una volta, anche lì 10 anni fa a Miami, alla convention di Miami, anche lì 12 anni fa, ora non ricordo più, perdo il conto proprio degli anni, un sacco di anni fa la convention di Miami, bella, ti dirò che già 12, 13, 14 anni fa quanti erano? C'erano degli artisti pazzeschi, tu vedevi pezzi realistici, a colori, con una qualità incredibile, di ragazzi probabilmente allora anonimi, che poi saranno anche diventati dei mostri, adesso vai a ricordarti le facce, chi era, chi non era, bella, bella, ma a me piace viaggiare, cioè a me piace vivere negli alberghi, non, cioè la mia vita è così, capito, a me piace prendere, partire, per questo amo lavorare come guest, mi piace proprio il fatto di prendere, andarmene, stare via un ton di tempo, sapere che comunque qua c'è sempre, capito, la tua casa, le tue cose, però mi piace proprio vivere sempre in giro, è proprio una cosa che ce l'ho nel DNA, mi piace, e poi questo lavoro fortunatamente ti permette di farlo, ti permette di andare, guadagnare, poter vivere da un'altra parte con i soldi che stai facendo mentre lavori, cioè che cazzo vuoi di più fare, cazzo vuoi di più dalla vita, cioè non c'è un'altra roba più bella di questa. È una di quelle cose che è il bello di essere nel tatuaggio. È il bello di essere, faccio un po' così, un artista, anche se io la parola arte faccio un po' fatica a inquadrarla perché l'arte per me è un po', sai, l'arte può essere tutto, c'è il mio parentiere che fa dei panini della Madonna, un artista, cioè siamo tutti artisti allora, capito, quindi la parola arte faccio un po' fatica a collocarla, non mi piace tanto usarla, la uso solo quando arrivo in ritardo o tipo quando, eh, sono un artista, scusate, sono anche in ritardo, sono un artista, la uso un po' così, capito, però poi fondamentalmente artista siamo un po' tutti e nessuno, cioè, penso che poi, come si dice, chi è l'artista è quello che fa la cosa, fa quello che fa con passione, vabbè, allora il mio parentiere comunque cazzo è un artista della Madonna, fa dei panini, fa paura, quindi non, ti ripeto, una parola che secondo me ogni tanto è un po', ma va bene, quando arrivo in ritardo va benissimo, sono un artista. Però si è... Sì, è un po', non lo so, sono quelle cose che un po' sono difficili da collocare, cioè, se la vuoi usare, usala, ma secondo me è un po' da prendere un po' così. Ma quando hai iniziato, cioè, era già così? Nel senso che potevi viaggiare tanto e permetterti di essere spesso in studi diversi? No, quando ho iniziato lavoravo solo nello studio dove ero, ma ovviamente quando inizi non hai l'esperienza anche per poter andare da altre parti, nessuno, quando io ho iniziato ti chiamavano in un altro studio per fare gli infiniti. No, no, ma intendo... Cioè, facevi gli infiniti e gli acchiappassogni e i tribali quelli proprio anni 90, ma chi cazzo ti voleva in un altro studio a fare quello, cioè, capito? Era tutto, era tutto molto più sedentario, no, capisci? poi tutto si è evoluto fortunatamente. Io ho avuto anche la fortuna di avere il mio capo di allora, il carbone, che mi ha dato la possibilità di andare dove volevo, cioè, non mi ha mai messo dei paletti che invece oggigiorno ci sono, in realtà ci sono sempre stati, solo che a me non li ho mai seguiti, ma lui non è mai stato uno che mi diceva andare lì perché lì tu sei resident qui, insomma, io ho sempre fatto quando ho potuto e lui, devo dire la verità, è stato sempre super corretto con me, io lo ringrazierò a vita. Vabbè, oggi è normale fare i guest, andare di qua, andare di là, io personalmente penso che penso che sia anche giusto che per i tatuatori, per i ragazzi fare anche dei guest in altri studi, girare, perché comunque così è la possibilità di lavorare con altre persone che non siano sempre le stesse che hai intorno, quindi, capito, confrontarti con altri artisti, ovviamente tutto nel rispetto di chi ha lo studio dove tu lavori, quindi non andando nella stessa città, comunque cercando di preservando quelle regole che non scritte che esistono da sempre e che è giusto che i ragazzi di oggi insomma facciano tesoro di questa roba e restino con questi valori, cioè capito, se ti chiedono un guest nella tua città non andare, perché comunque io non faccio testo perché sono sempre stato così, cioè non ho mai seguito queste regole ma perché io non lo so è una cosa mia però io alla fine non ho neanche mai chiesto niente a nessuno, cioè sono qui perché io sono qui fino alla storia, nessuno mi ha mai detto, nessuno mi ha mai fatto un favore, nessuno mi ha mai nessuno mi ha mai diciamo non lo so ha aiutato a entrare nel sistema, cioè io proprio mi sono fatto largo da solo e questa cosa qua nessuno può dirmi niente, quindi è così, però è giusto che i ragazzi invece specialmente quelli che iniziano così abbiano rispetto di queste cose, ripeto io non è che non ce l'ho o non ce l'ho avuto, tu sei il caso o eccezionale, mia scelta è stata questa, o andava bene così o niente, cioè non è che c'è l'altro da dire, sì sì sì, no ma è qualcosa che ti fa onore e sicuramente ti differenzia anche dalle persone o comunque dalle trattatori in generale, perché non è una cosa che tutti fanno o comunque che tutti sono disposti a fare. No, sai, io ti dico la verità, io per esempio che ho lavorato in una fabbrica prima di fare questo lavoro qua, quindi avevo le mie orari alle otto, a mezzogiorno, capito no? Sì sì sì, lo sono fatto anche io. Per me il fatto di fare fondamentalmente un po' quello che ti va, cioè andare a berti il caffè quando vuoi, prenderti il giorno quando vuoi, essere padrone di te stesso, fare il lavoro che ami, la cosa per la quale hai sudato, la tua passione da tutta la vita non ha prezzo, cioè questo già dovrebbe essere sufficiente, capito? Ma se non hai provato prima quello non puoi poi apprezzare questa roba qua, quindi ripeto ringrazio il fatto di avere vissuto prima delle cose che mi hanno insegnato cos'è poi il piacere di poter fare un po' quello che vuoi, capito? Quindi sicuramente è importante anche avere una base diciamo perché se tu inizi subito fai il tatuatore fai il cazzo che vuoi da domani vado a bermi il caffè quando voglio vado al parrucchiere faccio il cazzo che voglio capisci che la prima volta che ti dicono no guarda stai qua in studio te no amiche è problematico è problematico invece se già tu arrivi da una cosa dove eri diciamo abituato abituato così questo è paradiso sì sicuramente te lo sei sudato nel senso con gli anni all'inizio magari era peggio perché lavoravi fino alle due di notte ma io sei felice però io lavoravo fino alle due di notte per esempio se Andrea tatuava fino all'una un'e mezza del mattino io potevo anche andarmene a casa perché adesso tanti ragazzi li vedi sette e mezza eh no sette e mezza devo andare finito il tatuaggio devo scappare ma zio ma quale scappare ma questo è un lavoro che ma questo è un lavoro è un mestiere che si impara guardando e stando lì tutto il giorno cioè io se quello lavorava fino all'una e mezza di notte io rimanevo lì solo a guardarlo non mi interessava a costo che mi montavo un ago e dicevo cazzo posso montarmi un ago e tatuarmi da solo perché mi era venuta voglia mentre lo guardavo capito ma è fondamentalmente è questione di attitudine questa roba qua cioè non è o ce l'hai o non ce l'hai sta roba ma se tu ragioni come se fossi in una fabbrica è meglio che tu vada in fabbrica è meglio perché abbiamo guadagni di più è meglio sì è meglio che stare qui a farti comunque un sacrificio capito la mia vita non è il mio lavoro che gira intorno alla mia vita è la mia vita che gira intorno al mio lavoro perché in realtà questo non è un lavoro è proprio essere un tatuatore è proprio uno stile di vita cioè io sono un tatuatore H24 capito penso sempre a questo questo è il segreto è il segreto per stare bene in quello che fai se non c'è questo lascia stare ci sono un sacco di lavori ci sono un sacco di tatuatori che hanno sbagliato dovevano andare a lavorare in fabbrica invece continuano a vedere che tatuano così funziona però si la vedi la differenza quando uno ci mette passione dedizione certo perché prima o poi qualcosa raccogli capito l'importante è che tu fai quello che vuoi non lecchi il culo a nessuno fai quello che devi fare fai il tuo lavoro è fine della storia e fai in modo che nessuno ti possa dire un cazzo poi puoi stare sulle palle alla gente oppure no quello è un altro discorso ma probabilmente quello vabbè quello è una questione normale ma l'importante è che nel tuo lavoro nessuno ti possa dire niente e per arrivare a quello ti devi sbattere non è una roba che così ti svegli la mattina e nessuno ti può dire niente capito devi sbatterti devi lavorare ne devi sudare capisci quindi tante cose e soprattutto non devi leccare il culo a nessuno perché tanto se hai il culo alla gente prima o poi ti fermi dove vai? ho visto che hai due pitbull sì un american bull e un pitbull in realtà com'è com'è il tuo rapporto con loro? loro loro guai sono i miei sono parte della mia famiglia a livello proprio poi una delle due l'american bull è stata l'ho presa un canile un pet rescue perché era stata abbandonata quindi ho un legame con lei ancora ancora più forte l'altro invece è ancora un cucciolone c'è 11 mesi quindi sì sono un impegno cioè io diciamo che riuscire a far combaciare tutto viaggi cani due figli non è così semplice cioè a volte veramente tu dici uno dice minchia brigante vai il tatuatore sempre in giro qua e là sì ma sai che veramente a livello di di impegno veramente era meglio che se uno va in azienda alle 5 ha finito va a casa c'è i suoi cani la sua famiglia a fine della storia capito sì non è così cioè non è che ti devi fare tutto ovviamente ovviamente cambia anche ovviamente cambia il compenso che tu hai alla fine della della serata e beh se no sto cazzo di sbatti uno cosa si può fare cioè va bene tutto ma poi alla fine dobbiamo avere un un ritorno un ritorno capito e questo è il motivo per cui io non regalo i miei seminari è vero cazzo 20 anni che mi sono sbattuto 15 anni che mi sbatto per fare sto lavoro per per che cosa eh ma sai che cioè tutto ha un prezzo nella vita capito perché poi alla fine tutti mangiamo e paghiamo coi soldi sì sì ma quando io vado a comprarmi a comprare la spesa per i miei figli o qualunque cosa non è che quello del del supermercato mi dice ah no vabbè zio l'hai a posto così vai tranquillo no quello vuole i soldi capito quindi è tutto poi un cioè va bene la passione va bene tutto dopo tutti questi anni che tu lavori e sei riuscito a arrivare dove sei arrivato è giusto avere indietro quello che tu hai dato che ripeto io quando ho iniziato tanti tatuaggi non li ho mai neanche fatti pagare no ti tatuo non voglio niente capito sì 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 e non prendevo niente cioè arrivavo a casa con le tasche vuote che uno dice ma sei scemo ma stai andando a fare una cosa per non farti pagare avevo bisogno di fare questo per avere la credibilità delle persone capito e portare poi sai non c'erano i social che adesso è facile metti su Instagram ok siamo tutti bravi vediamo tutti le foto ok va bene ma quando ho iniziato io cioè non c'erano i social quindi chi è che vedeva niente passa parola vai a casa il tatuaggio è bello sì chi ti ha fatto quello lì ok me lo vado a fare eh guarda che quindi per quello era gratis gratis perché tu poi quel tatuaggio devi far vedere a tutti capito è un cartellone pubblicitaria che cammina ma adesso prova digli a qualcuno che inizia a farlo gratis eh in effetti non è una cosa che sono disposti a fare in tanti certo che no però è giusto così perché così vedi la differenza da chi ma sì ma adesso con i social sai metti la foto e l'uno dice perché devo devo regalarti una cosa per farla vedere che la metto su Instagram e va capito i seminari cazzo quanti anni fa hai iniziato a fare i seminari dieci anni fa forse una decina d'anni fa sì non ricordo però penso sì dieci anni fa più o meno primo seminario che ho fatto cosa ne pensi dei seminari online che trovi che ci sono adesso il prezzo sincero però troppo apposto penso che no un seminario guarda io sinceramente non conosco i prezzi ti dico però una cosa penso che un seminario vada pagato cioè io ti sto mettendo a disposizione la mia la mia esperienza o comunque quello che io ho imparato faticando come ti ho spiegato tutto insomma la mia la mia carriera quindi tutto quello che io ho appreso tutto quello che anche io ho appreso da me cioè perché va bene aver appreso dagli altri ma poi apprendere dagli altri che cosa a tirare una linea dritta va bene poi però devi apprendere anche il gusto perché il tatuaggio non è soltanto eseguire una cosa no? è anche il gusto proprio di metterla giù di come la metti di come la fai quello non si impara quello lì lo impari tu cioè è una roba tua quindi tutta questa roba qua ha un prezzo e basta va pagato cioè c'è poco da fare non non è un non è una roba in regalo questa cosa qua no no ma è giusto è qualcosa che chiunque nel mondo io mi immagino sempre un tatuatore alle Hawaii mi immagino al mare che ha il sogno di diventare un tatuatore e che vuole imparare da te e non può venire qua perché non ci dai soldi ma infatti io ho un sacco di gente quando facevo seminari seminari diciamo non online che mi scriveva ma è possibile averlo guardarlo online o qualcosa del genere però io non ero insomma non ero proiettato su questa versione anche perché non credo sia molto che si fanno seminari online comunque dal lockdown penso no beh qualcuno l'ha fatto prima ma poca roba poca roba penso che la maggior parte siano dovuti al lockdown al fatto di non poter uscire quindi non dicevo non lo so forse in futuro ma alla fine avendo comunque un grosso seguito dagli Stati Uniti quindi da posti dove è difficile che uno si prenda un aereo per venire a fare un seminario io comunque non ho imminenti viaggi negli Stati Uniti anche se sto pensando di andarci non so se entro quest'anno 2022 o 2023 comunque presto presto però sì non ti ripeto questa roba qua va pagata perché è giusto perché insomma perché per te è un lavoro perché tu questa roba qua tu la usi non perché vuoi essere a conoscenza io faccio lettering o di come uno faccia realistico di come uno faccia un altro stile tu vuoi apprendere perché tu vuoi tatuare quindi tu poi vuoi fare soldi con questo quindi è giusto che è giusto avere i soldi anch'io perché se no com'è la storia capito cioè tu impari poi fai i soldi e io non ho preso un cazzo capito non funziona così no sì sì ma questo funziona da tutte le parti no no fai un seminario di qualunque roba anche di che ne so di marketing o così cioè me lo regalano non è che è lì in mezzo a cento persone a spiegarmi come si fanno i soldi gratis perché sei svegliato stamattina buono cioè qui non ce n'è di gente buona qui c'è gente che fa soldi nel mondo proprio il mondo va avanti coi soldi è giusto soprattutto perché alla fine è un corso ma che ti permette di avere quei vent'anni di esperienza cioè di avere quello che sei riuscito ad imparare con l'esperienza in vent'anni in un seminario di 4-5-6 ore praticamente funziona così anche quando fai seminari proprio in persona è così cioè tu vieni perché io ti sto spiegando quello che quello che io sto facendo io dico sempre io non è che sono un professore o mi metto qua a dirti che quello che dico io è legge deve essere così cioè io ti dico la mia versione del mio lavoro di come io sono arrivato qua e di quello che io faccio ok quindi se uno viene a tatuarsi da me mi chiede un consiglio sono il primo a darglielo senza problemi cioè si parla non c'è problema capito però quando si fanno seminari questo è un lavoro anche per me questo per me è un lavoro capito quindi è tutto bello ma insomma poi alla fine dobbiamo mangiare tutti no? no no ovvio infatti è quindi anche questa roba qui ti ripeto non conosco i prezzi ma comunque il prezzo di un seminario dovrebbe essere dovrebbe essere pari all'esperienza che tu metti su in quello che hai fatto soprattutto in in uno stile come il tuo dove non ci sono milioni di tatuatori come magari non so realismo piuttosto che tatuaggi stili molto più commerciali che hanno più clienti il lettering fondamentalmente non è non è è da poco che è esploso o sbaglio cioè nel senso anni fa non era così presente e non è potuto magari definire veramente uno stile infatti ti ho detto prima infatti che negli ultimi periodi gli ultimi anni la gente comunque si sta appassionando sta cercando di fare sempre di più anche fanno i contest di lettering capito sono cose molto che aiutano a portare questa roba a livello successivo è giusto che sia così capito gli artisti stanno diventando bravi i ragazzi vogliono fare lettering è tutto è tutto bello sta diventando tutta una realtà capito quindi funziona va bene così la direzione è quella giusta assolutamente ogni persona che avrà il modo di guardare il tuo seminario avrà la possibilità poi di darti un feedback assolutamente sì quindi spero spero alla fine di tutta questa questo discorso che alla fine piaccia quello che che è poi il seminario vero e proprio e quindi ti ripeto ho fatto non so quanti seminari dal vivo e sono andati sempre tutti super benissimo questo è online però sai va bene speriamo che insomma sia tutto sia gradita questa roba qua insomma per oggi abbiamo finito ci vediamo al prossimo podcast speriamo che l'ho comprato in tanti così io posso comprarmi un'altra di queste 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 un'altra da di queste